Il Vescovo ha aperto i festeggiamenti in onore di San Venerio, lunedì la Messa in Cattedrale, la processione, martedì, le celebrazioni al Tino. L'Ite degenera in accoltellamento, profonde ferite alla testa e al torace per una 24enne, indagini in corso. Il Castello dei Fieschi, simbolo di Varese Ligure, ora è ufficialmente del Comune, cittadinanza onoraria per i donatori. Servono concretezza e determinazione, mister Di Carlo sprona le aquile per il match di domani contro la Ternara. Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con il TLS giornale. Dal 15 al 18 settembre si svolgerà a Genova la 26esima edizione del Congresso Eucaristico Nazionale presieduto dal Cardinale Angelo Bagnasco, un evento che riveste una particolare importanza nell'anno santo dedicato alla misericordia. Il Vescovo della Spezia, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, invita tutti i fedeli ad una accorata partecipazione. Ascoltiamo le sue parole nella nostra intervista. Il Congresso Eucaristico che si celebra quest'anno proprio a Genova, dunque nella nostra Liguria, beh decisamente è un congresso che ci richiama fortemente all'Eucaristia, dunque al sacrificio di Cristo come anche al grande dono proprio eucaristico del pane della vita e quel pane della vita che si deve trasformarsi nel pane della missione, nel pane della carità, dunque tutta una vita cristiana ruota attorno a questo grande evento. Il Congresso Eucaristico, momenti fondamentali. Innanzitutto si apre all'interno di tutte le diocesi e dunque anche da noi giovedì sera alle 21 in cattedrale la grande messa alla quale invito veramente a partecipare tutti perché è un po' l'evento che probabilmente ci vede coinvolti nella pienezza. Poi alcuni delegati andranno anche a Genova, molti altri che vorranno partecipare anche alla celebrazione soprattutto finale del Congresso Domenica Genova ma in modo particolare giovedì sera perché è il momento di apertura. È un momento forte perché l'Eucaristia deve toccare la vita di ognuno di noi. Allora l'invito alle 21 in cattedrale. Come poi anche la sera dopo, sempre alle 21, il momento particolare di adorazione, un momento di raccoglimento, un momento veramente anche questo di grande comunione con l'evento che si sta celebrando. Dopo gli altri due giorni, dunque il venerdì e il sabato, vedranno soprattutto coinvolto a Genova tutto quella che è l'organizzazione e la domenica mattina alle 10 e mezza in piazzale che ne di la grande celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinal Bagnasco che è legato del Santo Padre e proprio direi come segno forte di unità di questo convegno. Vi saranno varie catechesi, alcune sono anche già state fatte proprio da voi in Tele Liguria Sud, direi ecco veramente toccando anche aspetti molto forti e molto concreti dell'Eucaristia. Ovviamente l'Eucaristia rimane il cuore di tutta la nostra vita, il Congresso è un evento forte che ci richiama, però poi c'è quella quotidianità, ovvero quella Pasqua del Signore che è la messa veramente domenicale e di conseguenza ecco questo è importante perché il Congresso non sia un qualcosa di isolato ma prenda già ciò che stiamo vivendo e rafforzi ciò che dobbiamo vivere. Allora a tutti l'invito di viverlo con tanta forza, tanta serenità ma anche tanta intensità, in modo particolare giovedì sera alle 21 in Cattedrale, la grande celebrazione dell'Eucaristia. E per la messa conclusiva del 18 settembre in Piazzale Kennedy a Genova sono ancora disponibili dei posti in Piazzale Kennedy e quindi si può recare in Curia, in Curia della Spezia, per prenotare questi posti, sono dei biglietti da prenotare. Sono iniziati oggi i festeggiamenti in onore di San Venerio, patrono del Golfo e dei fanalisti d'Italia, ad aprire le celebrazioni, la messa presieduta dalle Vescovo, il servizio di Italo Lunghi. Con la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo di Ocesano, Monsignor Luigi Ernesto Palletti, alle 18, nell'antica pieve romanica di San Venerio, sono iniziati i riti di festeggiamento in onore del Santo, patrono del nostro Golfo. Nel corso dell'Omeliamo, Monsignor Palletti ha ricordato la figura del Santo, sottolineando proprio l'aspetto della santità che è accettazione della misericordia di Dio, ma anche e soprattutto la conversione filiale del cuore. Un pensiero che prende spunto dalla lettura del Vangelo, che oggi presenta la parabola del figlio al prodigo, un padre misericordioso, pronto a perdonare, accogliente, che propone al figlio non il ritorno come servo, ma propone a lui una nuova vita nella grazia del padre. Come di consueto, il programma liturgico dei festeggiamenti prevede la celebrazione solenne per lunedì sera alle 17.30 in Chiesa Cattedrale di Cristo Re alla presenza delle autorità cittadine. Al termine della celebrazione, la tradizionale processione con la statua del Santo sino al Molo Italia. Di lì, a bordo del rimorchiatore, l'effigie del Santo sarà trasportata nella chiesa di San Pietro a Portovenere. A seguito della processione delle barche, accompagnerà la reliquia. Come ogni anno, sarà predisposto il battello per i fedeli che vorranno seguire l'evento religioso. Martedì 13, giornata della festa riturgica, Santa Messa sull'isola del Tino alle 10.30, presieduta ancora dalla Vescovo Diocesano alla presenza di tutte le autorità civili e militari. La celebrazione sarà seguita dalla recita dell'Angelus e dalla consueta benedizione dei natanti ancorati nello specchio d'acqua attistante l'approdo dell'isola del Tino. E passiamo alla cronaca. Questa mattina, all'alba, in via Milano, alla Spezia, una lite per futili motivi, è degenerata in un accoltellamento. Una ragazza ecuadoriana di 24 anni è stata colpita ripetutamente e ha riportato profonde ferite da arma da taglio al torace e alla testa. La donna è stata trasportata in codice rosso allo shock room dell'ospedale Sant'Andrea. Sul posto sono giunte le volanti, la squadra mobili e della polizia che stanno portando avanti le indagini per rintracciare l'autore dell'accoltellamento che sembrerebbe essere, almeno secondo le prime indicazioni, un connazionale della donna ferita. E sono stati ritrovati in tarda serata di ieri dagli uomini del soccorso alpino i due turisti, un tedesco ed una italiana, che si erano persi sul promontorio del Mesco. I due, impegnati in un trekking tra Levanto e Monterosso, erano stati sorpresi dalla notte e avevano perso l'orientamento. I soccorritori li hanno localizzati grazie alla segnaletica installata quest'estate in concerto con il Parco Nazionale delle Cinque Terre. Entrambi i turisti stanno bene. Altro intervento delle squadre del soccorso alpino e speleologico della Spezia questa mattina, seguito di un malore che ha colpito un turista francese, 65enne, mentre stava percorrendo il sentiero che collega Volastra a Manarola. Gli uomini del soccorso alpino insieme alla pubblica assistenza di Rio Maggiore hanno raggiunto la donna e dopo aver valutato le condizioni l'hanno accompagnata all'ambulanza per il trasporto all'ospedale della Spezia. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco. Si è conclusa ieri sera in Piazza del Bastione la festa della CGL Spezzina Avanti Popolo con l'intervista al segretario generale del sindacato Susanna Camusso. Una festa, ha commentato Matteo Bellegoni, segretario generale della Camera del Lavoro Spezzina, che dimostra che la CGL è in grado di giocare un ruolo determinante per il territorio. Quasi 3.000 persone hanno assistito ai dibattiti, molto partecipata anche la chiusura con la segretaria Camusso. Vediamo il servizio di Laura Ivani, le immagini sono di Sergio Diofili. I temi del lavoro ma anche il ruolo del sindacato oggi è il referendum costituzionale. Di questo e non solo Susanna Camusso ha parlato ieri sera alla Spezia durante l'ultimo appuntamento di Avanti Popolo, la festa della CGL Spezzina. La segretaria generale ha poi commentato a margine dell'iniziativa anche i dati nazionali sul lavoro nel secondo trimestre 2016 che vedono una diminuzione del 29% per i contratti stabili e un aumento dei licenziamenti. Il dato che colpisce di più di quelli usciti oggi è l'aumento dei licenziamenti e dentro quel dato quanta parte è non consensuale, cioè non sono scelte di mobilità da parte dei lavoratori ma sono veri e propri licenziamenti. Credo che questo dica della fallacia di politiche che hanno immaginato che liberalizzando le regole e togliendo tutele ci sarebbe stato chissà quale slancio del lavoro. Sul tema del referendum costituzionale la CGL si è schierata per il no, anche se alcuni vertici nazionali hanno espresso la volontà di votare per il sì. Voci fuori dal coro? Quando abbiamo fatto un'operazione molto precisa abbiamo aperto una discussione, un confronto, ne abbiamo tratto delle conclusioni, abbiamo anche detto che un tema come quello della Costituzione è un tema su cui non ci sono vincoli, quindi non è che c'è qualche voce fuori dal coro, c'è un giudizio dell'organizzazione che è un giudizio di negativo su una riforma che a nostro avviso non semplifica le procedure e non determina un effettivo equilibrio dei poteri dello Stato. Tra i prossimi temi sul tavolo la legge di bilancio che affronti il grave problema della disoccupazione giovanile ma anche la questione pensioni di cui presto si parlerà in un incontro con il governo Renzi. Sappiamo tutti che c'è tre grandi problemi, uno che le pensioni si sono impoverite e quindi c'è una domanda di reddito, c'è un tema che è la legge in vigore che costringe tutti all'inseguimento indipendentemente da che lavoro si fa e rappresenta anche un blocco rispetto al normale tornovere all'ingresso dei giovani e c'è una legge che prevede l'impoverimento della possibilità per le generazioni attuali di giovani di avere una speranza previdenziale. A queste cose bisogna mettere il riparo, bisogna cambiare quella legge, ovviamente servono avere risorse, mi pare che dobbiamo uscire dalla stagione degli annunci, dei racconti, degli insetti volanti e cominciare invece a discutere seriamente di come si modifica la legge e si danno delle risposte. La Federazione Spezzina di Rifondazione Comunista e i Giovani Comunisti della Spezia commemoreranno domani nel 43esimo anniversario della morte Salvatore Allende. La cerimonia si svolgerà alle 17.30 presso il centro Allende dei Giardini Pubblici in Via Mazzini, verrà posto un mazzo di fiori in prossimità della targa che ricorda Salvatore Allende. Per l'occasione il giovane attore Jonathan Lazzini leggerà alcuni brani dell'ultimo discorso del Presidente Allende al popolo cileno. Dal Governo il no alla legge regionale sulla legittima difesa. Ascoltiamo l'opinione del capogruppo del Partito Democratico in Regione, Raffaella Paita. Il Governo ha bocciato la legge regionale che prevede il pagamento delle spese processuali e anche condannati per eccesso di legittima difesa. Voi siete contro nel merito, in tutte le motivazioni, perché? Beh, innanzitutto perché noi avevamo avvertito la maggioranza di destra con capofila la Lega Nord che avrebbero sicuramente avuto un no da parte del Governo. Questa legge è una legge anticostituzionale che viola i principi della Costituzione. Non si possono risarcire spese legali alle persone che possono potenzialmente avere una condanna per eccesso di legittima difesa. E soprattutto l'idea di far passare che in questo Paese, che nella nostra regione, la giustizia può essere un fatto personale, che uno si risolve da solo, è davvero qualcosa che dal punto di vista dei valori, dei principi democratici nei quali noi crediamo, è molto grave. Questa maggioranza di destra, che aveva iniziato anche con un manto di aurea moderata, in realtà è ormai sostanzialmente ostaggio nelle mani della Lega Nord. Lo stesso Totti, anche per le ragioni di carattere nazionale che lo portano ad essere sconfitto da Parisi, si sta progressivamente avvicinando sempre di più ai valori, alle convinzioni della Lega Nord e tra queste purtroppo c'è anche l'idea che uno possa farsi giustizia da solo e avere risarcito addirittura i danni nel caso in cui non abbia, ripeto, esercitato questa funzione per legittima difesa ma abbia fatto qualcosa che invece è altro e che non può essere difeso costituzionalmente. Li avevamo avvertiti, purtroppo sono voluti andare avanti, l'hanno fatto diciamo passando sopra ogni convinzione dell'opposizione e credo che sia anche giusto dire ai cittadini della Spezia e della Liguria che queste loro discussioni che fanno sapendo di votare cose anticostituzionali hanno anche un costo notevole perché ci costringono a stare ore e ore in consiglio regionale per votare delle cose che sanno già in partenza che non potranno essere attuate. Quindi c'è anche uno spreco di risorse oltre ad una affermazione di principi che secondo me in questa regione non hanno cittadinanza. Intorno a luna della scorsa notte un uomo è stato visto dalla Polizia Municipale mentre orinava contro l'edicola di Piazza Beverini. Avvicinato da due agenti li ha presi a testate costringendoli a ricorrere alle cure del pronto soccorso. L'uomo, un 31enne, è stato pertanto arrestato con le accuse di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Prendeva l'autobus a Castelnuovo Magra, scendeva alla Spezia per spacciare droga. E' proprio la Spezia in via dei Mille è stato arrestato ieri colto in fragrante mentre cedeva una dose di eroina a un pensionato spezzino di 69 anni. A finire in manette un tunisino di 37 anni già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato trovato in possesso anche di un bilancino per pesare la droga e di 350 euro in contanti. Giornata storica a Varese Ligure in Valdivara dove il Castello dei Fieschi oggi pomeriggio è stato donato ufficialmente al Comune perché diventi un presidio di cultura per la collettività. Per noi c'erano Laura Ivani e Davide Morino. Simbolo per eccellenza della storia di Varese Ligure il Castello dei Fieschi che risale al XIII-XIV secolo è stato donato ufficialmente quest'oggi al Comune di Varese Ligure dai fratelli Agnese e Angelo Rossignote. Abbiamo sentito il Sindaco di Varese Ligure e poi il Signor Angelo. Direi una giornata importantissima per Varese e per tutta la Valle e appunto oggi tentiamo di ringraziare in qualche modo come possiamo, come può un piccolo comune, i signori Rossignotti che ci hanno donato questo bellissimo castello, tra l'altro in condizioni ottime e stupende direi. Castello che era stato acquistato dai loro genitori, dai signori De Lucchi e Rossignotti era restaurato e inaugurato nel 1965 e sempre in questi anni messo a disposizione della cittadinanza per manifestazioni culturali e cose simili. Quale sarà adesso il futuro di questa importante struttura storica per Varese Ligure e ne è diventato poi il simbolo in questi anni? Questo è il simbolo di Varese Ligure, lo deve rimanere. Noi speriamo soprattutto che ridiventi un sistema per ripromuovere e Varese Ligure e tutta la Valle. Intendo una promozione turistica e culturale, perciò potrebbe essere un centro di manifestazioni, di mostre anche per i comuni limitrofi, considerato che noi siamo comunque la Valle del Biologico e diciamo il capoluogo della Valle del Biologico, perciò io credo e spero che questo diventi è un importante rilancio per tutta la Valle, soprattutto per Varese ma per tutta la Valle. Questo antico castello apparteneva alla sua famiglia e lei con sua sorella avete deciso di donarlo al comune di Varese Ligure. Facciamo un passo indietro e ripercorriamo un po' la storia di questo castello che è stato di fatto restaurato grazie ai suoi genitori. A mio papà, mio papà che era cavaliere del lavoro e quando l'hanno fatto nel 61, lui ha creduto bene di dare questo contributo al patrimonio nazionale donando il castello a sua moglie che di cognome era De Lucchi e quindi veniva da Varese Ligure. Questo è stato negli anni dal 61 al 65 ed è stato inaugurato nel 65 col sindaco De Lucchi. Lei e sua sorella avete deciso poi di donarlo al comune di Varese Ligure? Sì, perché siamo sicuri che mentre mio papà l'ha restaurato a dovere grazie anche alle autorizzazioni ricevute dalla soprintendenza ai monumenti della Liguria, volevamo che nel tempo continuasse ad essere rispettato come era stato fatto da mio papà. Questa è una giornata storica per Varese Ligure, però è una giornata storica in ricordo anche dei suoi genitori perché ci sarà anche un'intitolazione. Perfettamente questo mi riempie di gioia e di commozione. In Liguria nascono 12 nuove imprese artigiane ogni giorno. Nella regione sono oltre 125 mila le micro piccole imprese e più di 300 mila addetti. E questa è la fotografia scattata dall'ufficio studi di Confartigianato. Tra i tanti numeri messi in evidenza, rilevante quello del tasso di irregolarità con il quale deve fare i conti questo settore che è pari al 10,7%. Da sottolineare anche i dati relativi all'export manifatturiero che in regione vale quasi 6,2 miliardi di euro. Se questo fronte però alla Liguria è divisa in due, da un lato Genova e l'Imperiese che registrano numeri in calo, dall'altro Savona e la Spezia che invece vedono crescere le esportazioni. In particolare nella nostra provincia si registra un più 8,6%. Tra le difficoltà da superare a livello globale vengono evidenziati soprattutto la questione dell'accesso al credito e l'eccessiva burocrazia. E vediamo ora come ogni sabato in anteprima la pagina che sarà domani nel quotidiano cattolico avvenire dedicata alla diocesi della Spezia Sarzana Brugnato. Vediamo. L'Eucaristia al centro della vita. Giovedì sera la celebrazione alla Spezia per l'inizio del congresso nazionale. Da giovedì fino a domenica infatti a Genova verrà ospitato un evento religioso di grandissima importanza e significato appunto il congresso eucaristico nazionale. Molte però le celebrazioni che si legheranno a questo evento anche alla Spezia. E venerdì il Vescovo Palletti presiede l'adorazione della cripta di Cristo Re mentre domenica sacerdoti e fedeli spezzini saranno a Genova per la messa conclusiva del cardinale Bagnasco. A fianco il box è dedicato al ricordo di un altro congresso quando il congresso fu diocesano. Si parla della celebrazione del congresso diocesano voluto nel 2004 dall'allora Vescovo Bassano Staffieri, oggi Vescovo Emerito. Un altro appuntamento quello per domenica 18 settembre quando in concomitanza proprio con la giornata conclusiva del congresso eucaristico in tutte le chiese italiane si terrà una raccolta straordinaria di fondi a favore delle popolazioni colpite dal sisma dello scorso 24 agosto. A centropagina scuola, gli auguri del Vescovo, trovate appunto il messaggio di Monsignor Luigi Ernesto Palletti appunto in vista dell'apertura dell'anno scolastico. E a fianco lunedì e martedì la festa nel golfo, le celebrazioni in onore di San Venerio. Lunedì appunto la messa nella cattedrale di Cristo Re, poi la processione e martedì le celebrazioni sull'isola del Tino. A fondopagina, mercoledì 14 settembre, la festa liturgica dell'esaltazione della Santa Croce, Vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti celebrerà la messa nella parrocchia di Santa Croce a Beverino Castello, al monastero carmelitano della Santa Croce di Bocca di Magra. La giornata del creato, celebrazione ecumenica domani pomeriggio al santuario del Mirteto. E infine a Venezia il premio dedicato a Nazareno Taddei, al Gesuita. Nazareno Taddei è stato consegnato al film Paradise. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire. E come avete sentito sarà celebrata domani pomeriggio al santuario del Mirteto a Ortonovo Alto, la giornata del creato, dedicata quest'anno alla misericordia del Signore per ogni essere vivente. Alle 15.30 si terrà una riflessione, terrà una riflessione il pastore Herbert Anders della Chiesa Battista e seguirà alle 16.30 una preghiera ecumenica. Saranno presenti anche i Vescovi Luigi Ernesto Palletti e Giovanni Santucci. E oggi nel Salone Multimediale di Tere Liguria Sud si è svolto il primo incontro di formazione permanente per gli insegnanti di religione cattolica organizzato dall'Ufficio Scuola e Educazione della Diocesi della Spezia. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini, le immagini di Davide Morina. Professore, qual è la situazione culturale in Italia con cui i professori di religione oggi nelle scuole si devono raffrontare? Ma la questione è abbastanza complessa, nel senso che il paese, come vedete, si trova in una società che sta comunque mutando velocemente, è una società molto complessa per cui anche a livello culturale sono diverse proposte. E oggi, per esempio, qui abbiamo trattato il tema dell'identità di gender, che è una proposta. occorre ovviamente analizzare bene la situazione per capire di che cosa si tratta innanzitutto, per non andare a fare degli scontri ideologici, perché non è il caso, perché si può ragionare se abbiamo le categorie interpretative e corrette. Noi rischiamo a volte di fermarci su delle questioni veramente che rischiano di essere ideologiche e che portano allo scontro. In realtà dobbiamo fare un percorso un pochettino più approfondito, un pochettino più largo, nel senso più ampio del termine. Cosa possono fare i professori di religione con i ragazzi all'interno delle scuole? Allora, possono fare moltissimo, pur avendo poi poco spazio, perché sapete che la religione ha un'oretta circa la settimana per poter lavorare, insomma gli insegnanti non hanno tantissime ore. Però devo dire che se l'insegnante è preparato, se è consapevole innanzitutto di se stesso, bene può fare moltissimo, perché poi il vero problema dei ragazzi di oggi non è tanto avere più nozioni o più proposte culturali, il vero problema è riuscire a trovare delle persone che sappiano essere riferimento. Cioè i ragazzi di oggi hanno bisogno di riferimenti certi, solidi. Tenete presente che molti vengono da famiglie che sono in crisi, che sono allo sfascio, quindi vivono dei contesti relazionali fluidi, come si dice in sociologia, e questo li rende insicuri, incerti. Tra l'altro le insicurezze, io ho scritto un libro, si chiama Un Corpo Educato, proprio su questo tema, perché le insicurezze vanno a sfogarsi sul corpo. Pensate a tutto il problema delle dipendenze. Noi sappiamo, attraverso la ricerca che abbiamo fatto, che il problema delle dipendenze è strettamente legato alle questioni relazionali non risolte. Per cui sappiamo benissimo che una soluzione a questi problemi è, in qualche maniera, ricreare degli ambienti relazionali stabili, che possono dare dei feedback positivi ai ragazzi, che in questo momento, soprattutto in adolescenza, stanno riorganizzando le componenti della personalità. Per cui dobbiamo stare molto, molto attenti. Credo che gli insegnanti di religione possano fare qualche cosa in questo senso. Primo sabato di apertura per il mercato contadino biologico organizzato dagli orti di San Giorgio nel Parco del Cavaliere. Vediamo al servizio di Maria Cristina Sabatini le immagini di Davide Morina. Oggi il primo sabato del mercatino del biologico degli orti di San Giorgio. Come è nata questa iniziativa? Questa iniziativa è nata per il volere dell'Associazione degli orti di San Giorgio, che hanno risistemato quest'area che era proprio depressa, e hanno voluto renderla fruibile alla città. E quindi questa qual era la migliore maniera, se non fare un mercatino biologico, che penso che sia stata l'idea eccezionale. Ha funzionato benissimo, è molto bello, ha avuto successo, tanto che ci stanno chiedendo di tornare tutti i sabati, proprio perché qui la gente è molto sensibile a questa cosa. Voi di dove siete? Noi siamo di Levanto. E vedo che comunque è andato via quasi tutto. Sì, le cassette sono vuote. Come sono andate le vendite oggi, primo giorno di mercatino? Molto bene, molto bene. Non ce l'aspettavamo, è stata molto sentita questa cosa, la gente ha risposto. E diciamo che vorrebbero che aumentassero le aziende, ma aziende ce ne siamo, siamo in pochi nel biologico. E diciamo che cercheremo di continuare magari anche tutti i sabati a venire a fare il mercato qui, perché abbiamo visto un entusiasmo, oltre a vedere il posto molto bello, anche avere i prodotti biologici, la gente è contenta. Come sono andate le vendite nella giornata di oggi? Oggi non ti possiamo lamentare. Come primo giorno è venuto abbastanza persone, sono venute. Poi l'ambiente, c'è un panorama, questa bella rieta che mitica un pochino anche il sole che c'è, il caldo che c'è, ci sta veramente bene. Ma la gente ha visto che è interessata, poi tanti non lo sanno ancora. E quindi magari bisogna mettere giù in Beaprione un cartello dove prendere l'ascensore per indicare che qua c'è il mercatino del biologico. Comunque non mi lamento, vedo che qualcosa si è venduto. Per accontentarsi, come primo giorno è andata bene, diciamo. Ringraziamo anche chi ha avuto l'idea, anche il signor Mori, il comune che è stato da fare, l'ascensore Mori in particolare, è venuto anche qua stamattina a vedere come va. Quindi va tutto bene per il momento, speriamo che continui. Cosa avete acquistato? Abbiamo preso le patate e abbiamo preso l'uva. Come vi sembra questa iniziativa? È molto importante, una zona così bella che almeno viene utilizzata e si vede il progresso che hanno fatto la città, perché questa era una zona abbandonata. Io da bambina che abito qua avevo cinque anni e ho visto tutti i cambiamenti e questo veramente vedere così abbandonata mi faceva tristezza. Invece ora siamo tutti contenti, la zona proprio. Circoleranno regolarmente domani, domenica 11 settembre, i treni del trasporto regionale Ligure. È stato infatti revocato lo sciopero, confermato invece lo sciopero del personale Trenitalia addetto ai treni a lunga percorrenza di Liguria, Toscana ed Emilia Romagna, indetto da alcune sigle sindacali, dalle 9 alle 17 di domani. Le frecce viaggeranno regolarmente, alcune ripercussioni si potranno invece avere sulla circolazione dei treni intercity. Sono trascorsi 15 anni dall'attentato delle Torri Gemelle a New York. Fu un atto di guerra che trasmise sgomento e incredulità e fece riflettere il mondo intero. In questo caso le armi furono alcuni aerei con il suo carico umano, persone innocenti che volavano per diverse destinazioni e che furono coinvolte in un tragico disegno terroristico. La distruzione delle Torri Gemelle contò molte vittime, tra queste molte di origine italiana. Vogliamo ricordare tutti coloro che perirono in questo infausto giorno, auspicando un ampio dialogo di pace e chiedendo a gran voce che non si ripetano più azioni insensate e crudeli. Nuova iniziativa al cantiere della memoria alle grazie. Dal 12 al 22 settembre si potrà ammirare la mostra fotografica Attorno a Capo Horn, viaggio alla fine del mondo, che contiene alcuni reperti e ricordi del viaggio del comandante esploratore Fabio Vespa. Un viaggio che viene ripercorso dal videodocumentario a cura di Corradorici, Saul Carassale e Sara Bonatti, che sarà proiettato il 12 settembre alle ore 21 e il 23 settembre alle ore 21 e 30. Una traversata per salvaguardare il mare. Mario Raiola lunedì prossimo, partendo da San Terenzo, tenterà di raggiungere a nuoto Monte Rosso, una traversata di 25 chilometri con un importante scopo benefico. Vediamo il servizio di Maria Cristina Sabatini, le immagini di Davide Morina. Una nuotata per il mare, 25 chilometri da San Terenzo a Monte Rosso in 7 ore. Perché? Ma innanzitutto vedremo se riuscirò a farla in 7 ore. Quello non avendoli mai fatti non lo so. La mia aspirazione sarebbe fare anche qualcosina in meno, ma lo sapremo soltanto lunedì, quanto tempo ci metterò. Il perché è presto fatto. È una sfida personale per mettermi un po' la prova su distanze maggiori rispetto a quelle che ho nuotato fino adesso. E poi l'idea di unire questa mia sfida personale a un qualcosa che facesse del bene. Ho scelto quindi Sea Shepherd perché è una cosa che riguarda il mare. Io amo il mare sia sopra che sotto, dentro, in tutte le forme. E quindi ho voluto legare questa mia nuotata, che avrei fatto comunque in sordina senza farlo sapere a nessuno, dando invece visibilità soprattutto per loro, non per me ma per loro, per Sea Shepherd, per il lavoro che fanno e quindi per raccogliere più fondi possibili. Nel 2048 le risorse marine pian piano si andranno ad esaurire. Cosa si può fare concretamente per risolvere questa situazione? Per assicurarci che delle risorse così importanti non vadano perdute per sempre, la cosa sicuramente principale e più importante che dobbiamo fare è quella di proteggerle. E quella di proteggerle contrastando, ad esempio, tutte le attività illegali che si svolgono purtroppo in questo momento. Ed è quello che concretamente Sea Shepherd fa grazie alla propria flotta di navi, cercando appunto concretamente di contrastare la distruzione di una risorsa così importante per noi. Vice sindaco, il Comune di Monterosso ha deciso di sostenere questa importante iniziativa, non solamente a livello agonistico ma anche a livello benefico. Certamente, questa mattina siamo qui per la conferenza di presentazione, per questa impresa che definirei PICA, per questo ragazzo che ha deciso veramente di intraprendere una traversata disumana e noi siamo qui a sostenere lui e tutto quello che c'è dietro. Una bellissima iniziativa, questa mattina hanno illustrato bene quali sono le finalità promozionali della cosa e devo dire che l'adesione è totale. Sea Shepherd sta facendo un'attività a livello mondiale, planetario, importantissima e quindi va sostenuta. La gente deve capire che c'è un pianeta mare che è la nostra più grande risorsa e va tutelata. Passiamo al calcio. Più concretezza e determinazione questo chiede il mister Aquilotto Mimo Di Carlo e i suoi ragazzi per il match che li vedrà impegnati domani alle 17.30 sul campo della Ternana. Ascoltiamolo nella conferenza pre-partita. Diciamo che abbiamo perso due giocatori importanti oggi, ieri e oggi abbiamo preferito non rischiare che sono De Iola e Alessandro Più, però abbiamo una squadra forte e quindi quelli che giocheranno sicuramente si faranno valere per lo Spezia e lotteranno per arrivare a quello che è l'obiettivo nostro, provare sempre a fare la partita e arrivare attraverso il gioco alla vittoria. I nuovi arrivati vanno inseriti un po' alla volta, perché no si rischia di fare il famoso casino disorganizzato, dove magari metti dentro un giocatore, magari poti fare una prestazione da qua, non ti fa una prestazione importante come uno si aspetta e si dice ma perché, per come? Per gradi, ok? Granocci arriva da allenamenti fatti con la squadra ma mai fatto partite, quindi bisogna far sì che i ritmi di Granocci si alzino negli allenamenti. Lo stesso vale per gli ultimi arrivati, De Iola che anche se era più dentro alla squadra comunque ha bisogno di ritmo più alto e lui fisicamente ci arriva e lo vediamo che adesso ha spinto un po' di più, chiaramente bisogna abituarsi anche lui, lo stesso per Baez e lo stesso per Daktovic che si è fermato già una volta e mezza, anche lui, quindi i nuovi sono giocatori importanti ma hanno bisogno di un attimo di tempo. Noi andremo chiaramente a caccia della Ternana per cercare di arrivare a capo di una partita da fare con grande personalità e con l'atteggiamento giusto e coraggioso ma di fronte avremo una Ternana che ha vinto, ha trovato la vittoria, ha ritrovato quelle sicurezze che probabilmente la prima partita non gli aveva dato e quindi sarà un bel match ma è un match che va vinto sul campo, va vinto con l'intensità, va vinto con la determinazione, va vinto con la cattiveria agonistica, va vinto con quella convinzione che noi ci stiamo lavorando per fare quel saltino in più, che se non arriverà domani non è un problema, l'importante è che arriva la prestazione per farlo perché sappiamo bene che la Serie B è lunga e fa parte di un processo di crescita, questo processo bisogna farlo attraverso le prestazioni, non ce n'è, da quello non si scappa. E vediamo ora i risultati della terza giornata di campionato, Cesena Carpi 1-0, Ascoli Spal 1-1, Avellino Trapani 0-0, Benevento Verona 2-0, Brescia Perugia 1-1, Frosinone Latina 2-1, Novara Salernitana 1-0, Cittadella Provercelli 5-1, Vicenza Bari 0-0, abbiamo detto Ternana Spezia si giocherà domani alle 17.30 e Entella Pisa lunedì alle 20.30. Con questi risultati ecco la classifica, il Cittadella in testa la classifica con 9 punti, segue il Benevento a 7 punti, Frosinone 6, Brescia 5, Cesena, Verona, Spal, Carpi, Novara, Bari a 4 punti, Entella, Pisa, Ternana, Trapani a 3 punti, Ascoli, Spezia, Perugia, Salernitana, Avellino e Provercelli a 2 punti, infine la classifica Latina e Vicenza a 1 punto. E prima di chiudere vediamo insieme le previsioni meteo per la giornata di domani, che sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili locali passaggi di nubi alte. Nelle ore più calde non si esclude la possibilità di qualche breve rovescio temporale sui rilievi. I venti, deboli a prevalente regime di brezza, al mare poco mosso, le temperature uscilleranno tra una minima di 23 gradi e una massima di 33 gradi. È tutto per questa edizione, io vi ringrazio della cortesa attenzione, a tutti auguro un buon proseguimento di serata e per domani una santa domenica. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS